Il conto alla rovescia è iniziato e Firenze si prepara ad accogliere per la prima volta le migliaia di partecipanti che sfileranno al Toscana Pride del 18 giugno in nome dei diritti di gay, lesbiche e transessuali. 10.000 le persone attese alla sfilata che partirà da Piazza d'Azzeglio e arriverà in Piazza Indipendenza dove si terrà il minuto di silenzio in memoria delle 49 vittime dell'attentato al locale gay Pulse di Orlando. Al corteo anche il gonfalone della regione, delle province e dei 60 comuni toscani che hanno aderito. Uniconeo il patrocinio non concesso dal comune di Firenze ma per il comitato l'importante è la partecipazione. Non ci soffermiamo su chi non l'ha dato ma soffermiamoci magari su chi ha aderito, su chi ha detto sì, io sono con voi, io sostengo le vostre battaglie quindi perché insomma dare spazio non più a chi non c'è, io lo do a chi c'è. Per le vie del centro di Firenze, carri, musica e colori per chiedere il rispetto dei diritti di tutti anche sul lavoro come chiede la CGL Toscana che sarà presente al corteo. I diritti del lavoro sono importanti ma vanno di pari passo ai diritti di civiltà, ai diritti di uguaglianza ovviamente e ai diritti sociali. Una parata che marcerà anche verso un preciso orizzonte d'azione dopo l'entrata in vigore della legge Cirinà sulle unioni civili ora si punta alla legittimazione dei legami affettivi in nome della parità dei diritti. Grazie. 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 Grazie.